Ezzio, vieni qui Ezzio, vieni qui Chi è là? Ezzio! Leonardo! Sapevo che c'eri tu dietro l'attacco al castello Vieto di vederti, amico mio Vieni qui Perdonami, i Borgia hanno richiesto i miei servigi Avrebbero potuto uccidermi se mi fossi rifiutato Che cosa vogliono? Macchine da guerra Ho inventato le armi per tutte le guardie dei Borgia e anche altre mostruosità Sono molto ben progettate Tieni I nomi dei templari che seguono la loro costruzione Cesare vuole rifornire il suo esercito delle mie creazioni Devi distruggerle Grazie Mi prenderò cura dei progetti e delle macchine Temo di portare notizie anche peggiori Hanno... La mela Sì, lo so Avevo dato io la mela a Mario Mi dispiace, Ezio Cesare me l'ha data per studiarla e farla funzionare Poi Rodrigo l'ha presa e ora... Non so dove sia Prima o poi la recupererò Leonardo Ho perso tutte le invenzioni del codice che mi avevi creato Non sarà difficile ricostruirle Non dimentico mai un progetto Però dovrai rimborsarmi le materie prime Davvero? Non ti pagano abbastanza al Vaticano? Poco Davvero poco Se vogliamo farcela Non devono mai vederci insieme Un indice puntato? Indica dove devi sederti Quindi siedi Certo maestra Tutti se negrini giunti a Roma Dovrete arrivare Devo tornare al laboratorio Aspetta qui Posso uccidere il doppio delle guardie Io ho tracciato la posizione di Leonardo sulla mappa Ora puoi seguirlo quando si sposta Per sincronizzarti con Ezio dovrai distruggere le macchine di Leonardo Ho segnato la posizione dei Templari che ne seguivano la costruzione Aggiornerò la mappa una volta scoperto dove si trovano le macchine Aggiornerò la mappa una volta scoperto dove si trovano le macchine di Leonardo